Gospodine Isuse Kriste Dolazim Ti uvijek iznova Sa svojim porazima, sa svojim slabostima Con le mie fragilità, con i miei pensieri, con le mie parole Con le quali ho ferito gli altri Vengo con tutte le mie mancanze Quelle nelle quali non ho dato amore agli altri Dammi della possibilità A me che mi sono permesso di giudicare gli altri, il mio prossimo Signore, Tu sai quanto mi piacerebbe fare diversamente Ma sai anche che spesso mi mancano le motivazioni Mi manca la forza Mi manca la perseveranza Signore, Ti do la mia debolezza e la mia impotenza Ti do il mio cuore ferito Che attraverso queste ferite A causa dei traumi, delle paure Non permettono agli altri Di venire verso di me Di offrirmi L'amore infinito Il mio cuore si difende Ma credo, Signore Che ciò che io non posso fare Tu puoi farlo È difficile per me È difficile per me Per me perdonare È difficile amare È difficile essere paziente Ho fiducia in Te, Signore Quello che io non posso farlo Tu invece lo puoi fare Ti do le mie ferite Rimetto nelle Tue mani La mia tiepidezza Nella fede e nell'amore Rimetto nelle Tue mani I non sentimenti Che porto in me La mancanza di conoscenza Rinfrescami col Tuo amore Infiamma la Tua fiamma Nel mio cuore Grazie, Cristo Dio fiamma l'amore Challa Cristo Challa Cristo Challa Cristo Challa Cristo Challa Cristo Grazie a tutti Signore, il combattimento con i miei peccati, le mie dipendenze, i miei giudizi, la sola speranza che vedo e guardandoti. So che tu sai quando è il momento giusto, ma sono così tanto impaziente. Credo che tu offri ancora di più rispetto a quello che io cerco da te, ma invece questa incertezza. Ti offro i miei dubbi e le mie paure, i miei dubbi sulla misericordia che tu puoi farmi riguardo al mio passato. Ci sono così tante cose che non si sono realizzate, delle cadute, delle mancanze di riuscita, dei momenti in cui ho dimenticato di vivere la mia vocazione in quanto uomo, figlio di Dio, fratello, figlio, amico. La paura del futuro che rimane in qualche modo e che è nascosta. Signore, io so che il dubbio e la paura rimarranno sempre, fanno parte della mia vita, ma desidero accettarti, afferrare la tua mano in modo forte, guardare con forza i tuoi occhi, avvicinarmi a te per sentire la tua voce, per sentire il tuo calore. Percepire che tu mi tocchi, desidero come te, signore, non fuggire davanti alla croce, ma abbracciarla. Desidero come te, vivere la vita facendo il bene, non scappando. Signore, tu eri immaturo, tu eri un uomo maturo, un figlio maturo. Tu hai compiuto, hai realizzato la tua vocazione. Verso la grazia, la tua riuscita che si è realizzata nella più grande non riuscita, quando martoriato eri sulla croce. Rimetto nelle tue mani la mia vita, che attraverso la tua benedizione, la mia vita. Segue i tuoi passi. Possa tu manifestarti nelle mie non riuscite, nei fallimenti, nelle cadute, che la tua grazia, la tua forza, la tua tenerezza risuonino in tutto quello che è rotto, che il tuo sorriso, così tenero, possa intravedersi anche nelle lacrime, signore. Desidero essere vicino a te, accettare la mia vita e le mie ferite, vivere con loro, diventare amico di me stesso, perché tu sei mio amico, amarmi, perché tu mi ami. E iniziare a servire il mio prossimo, come l'hai fatto tu. Grazie a te, Gesù. 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 Signore hai le braccia stese sulla croce hai abbassato la testa per poterci baciare e ci chiami e ci offri tua madre perché con lei e in lei impariamo che possiamo camminare insieme a lei e pregare con lei affinché impariamo come lei nel nostro cuore a meditare le tue parole Signore benedicici tutti fa che diventiamo portatori della buona notizia che la gioia possa essere il segno della nostra vita la speranza possa manifestarsi anche nei giorni duri facci luce affinché gli altri vedano che abbiamo capito il tuo messaggio che tu sei il padre nostro e noi i figli tuoi facci sale della terra in modo che possiamo dare il sorriso lì dove ce n'è bisogno dove c'è bisogno di calore di portare il tuo amore aiutaci a portarlo là dove ne manca aiutaci a portare la fede dove ce n'è bisogno portaci Signore lì dove c'è la disperazione chiedere le iso chiedere le iso Il Signore vi benedica a tutti nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.